Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo previsto nei prossimi 10 giorni è all'incirca fino a 12 e 13 di ottobre. Prevarranno le fresche e spesso piovose correnti atlantiche, soprattutto al centro-nord. Tre fasi, la prima fase tra domenica 4 e lunedì 5 giunge sul nord Italia all'ennesima perturbazione atlantica, mentre sulle regioni meridionali insiste l'africano. Lo esce temporale soprattutto domenica sul nord Italia, Toscana, Umbria, Lazio, Campania, rovesci che saranno di forte intensità sulle vantiliure. Seconda fase tra il 6 e l'8 di ottobre, fresche correnti atlantiche questa volta su tutta l'Italia, ma saranno poche umide e quindi non porteranno piogge di rilievo, poche piogge limitate per lo più al pomeriggio sulle regioni tirreniche e sulle regioni di nord-est. Nebbie nel primo mattino sul Basso Veneto sulla bassa Lombardia. Terza fase, tra il 9 e il 12-13 di ottobre giunge una nuova intensa perturbazione atlantica che verrà poi raggiunta successivamente da una perturbazione dalla Spagna. Piogge anche forti sul nord Italia e Toscana, mentre sulle regioni meridionali e marginalmente su quelle centrali si allunga di nuovo l'anticiclone nord-africano. Per quanto riguarda le temperature, tra il 4-5 ancora temperature gradevoli, inferiore alla media al centro nord, con valore tra 18 e 22 gradi al centro nord, invece 23 e 29 gradi sulla regione meridionale, i valori più alti soprattutto su Puglia, Lucania e Calabria, interno della Sicilia. Tra il 6 e l'8 di ottobre, temperature in calo al sud, perché se ne va all'africano, temperature massime intorno a 19-24 gradi sulla regione centro-settenzionale, intorno a 24-27 gradi su quelle meridionali. Infine tra il 9 e il 12 di ottobre le temperature risalgono soprattutto al centro-sud, valori intorno a 20-22 gradi sul nord Italia, 23-25 sulle regioni centrali, 24-27-28 su quelle meridionali. Termino qui un caro saluto ancora da Mario Giuliaci. Vi ricordo di scaricare dall'home page del nostro sito la nostra app che è molto semplice da usare.